Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... .... ... ... or ... actually...? So, vai andando Perciò che cosa si vuole anche adesso Oh, ci sono qui anche Guarda qui qui, guarda qui qui Come andiamo a trovare un'argo Qui abbiamo messo una giocatura di questo Guarda qui Guarda qui qui è qui qui era un progettore qui era un progettore qui era un pc rgv che cosa è? 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 che c'è un lampo allora andiamo a vedere che cosa è? i geti un zopra yes bro questo è tyler è stato un hero è stato un po' i don't know 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 to give you my twin a shout before reuniting after 10 years of swank juvie is more like letter territory whatever you'll thank me when we're 90 and the machines have taken over and you still have something to read by the candlelight see always think ahead anyway i can i can i can i can not believe you'll be out for real in a few weeks what? amazing i'm definitely going to be awkward when i see you please try to not to notice okay? how's your last month going? so i'm not going to read this one i've understood both of my brothers he put the gun in a bach in her childhood in the middle of her mother he told her what happened we want to figure out and basically put it in a jail which is like a child they put it in a jail e quindi mettere i suoi sottotitoli ma ora ora è un adulto penso che è circa 20 anni o 23 anni ora mi ha pensato a vedere tutto ma non mi ha pensato a vedere non mi ha pensato a vedere questo è la mia figlia con Alesson, con il mini yoda, con il mini yoda con il mini yoda questo è ok oh è un correcto non c'è qualcosa di più c'è un bag bag ok c'è un bag non c'è un bag non c'è un bag non c'è un bag c'è un consiglio anche il suo consiglio è stato in giù si è un bag c'è un gioco è un gioco non c'è un gioco non c'è un gioco c'è un gioco non c'è un gioco non c'è un gioco non c'è un gioco e un gioco e un gioco questo è quello che dice è un gioco è un gioco questo è un gioco ci si vuoi ci si vuoi ci si vuoi questo è un gioco questo è un gioco è un gioco tutto per l'amalia ok ok non c'è un gioco non c'è un gioco non c'è un gioco Guardate londe che l'azienda, questo è un anno che c'è ancora più anni C'è un buon Ciao E il buon Questo è un buon grafics che non sono scusate Ma per me, il tuo tuo per il pentium, è il buon grafics Come on Chimzar is smart and ho Ero level Ero Just moment enjoy Haise è un posto migliore per cominciare Dio, è buonissimo per vedere te Anche Hai qualcosa di più che hai bisogno di ottenere? Non, questo è tutto Mi ultima 10 anni, in un bagno Poi dovremmo andare Abbiamo tempo per fare il ferro del mattino Tu sembra bello in questo Grazie, uno di miei menti ha designato questo È davvero bello sì, è incredibilmente allantique ho un po' di Medical Co... ...pubi da un po' di un euro other ... 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 Sì, mi è milita, sì. o i 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 Pressione l-2-2 Bene, 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 ma io non ho visto molto attraverso il mio lavoro C'è stato molto bello con la danza e per il suo clan organizzare un potlatche Ok, e stia trying to hide the fact that she broke up with Michael I guess Oh where is the details? In both schools I guess they walked onto the area Ah man, Pk, sono the same, gotta costruire Molto malice Non ci sono Non ci sono interessati a venderni E non ci sono molto interessati a vendere Molto molto più riche Molto molto più riche Per quanto riguarda i Juno Giacomo che ha molti grabazioni e i raggiunti Mi ha anche un'ottifiche Quindi per quanto riguarda i Juno Per quanto riguarda i Juni Non mi ha anche più Sì, puoi. P.K.'s are a big one. P.K.'s are a big one. P.K.'s are a big one. Forever is a big one. She's curious about her. She didn't get 10 years old. She obviously didn't get curious. What are you hoping? What a smarty. Full hero. Spade it out. Okay, we need to promise not to freak out. It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry, when you said Eddie, Sì, pensi che hai chiesto Chief Brown, come in il polizia che mi ha arrestato. Come on, Tai, non... E il tuo padre adottato, il tuo che non mi ha lasciato visitare per sette anni. Il Regno di Fireweed Administration lo ha avuto, Tyler. Mi pensi che sia meglio per noi, per noi. Sì, ma non è stato. È un offerto di gioco, e sei sei la due persone più importanti nella mia vita. Sì, per me? Sì, per me è un po' Sì, per me è un po' It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Fine, I can't accept this. I don't care. I guess, let's say fine. I guess for now, then let's go. I just said it wrong, like his point can be valid. I don't know the backstory. sì no 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 per 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 la mia voce che ha in un po' che ai che ha dato a sottolineallo e che ci hanno fatto in cui gli altri haiчивo che hai vedi a te questi sami? che hai visto un po' che hai visto e mi ha dato che hai visto la mia proposta insieme tra i te nei piccoli che hai visto un po' che hai visto un po' che hai fatto 1 minuti ok, è arrivato, è arrivato, non è ancora più grande non è ancora più grande la background sound è arrivato, è un'issue ora è arrivato, ok Dhanish scrive in una chattura e poi continuare ok 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 ok, continuare Ragazzi, chi ha già già subito? Scusi che non mi chiede il tuo nome Perché il mio nightbot è andato Mi ha detto Tata E non posso vedere chi ha subito E anche se ti ringrazio, grazie per te rade Noi, non ci sono sempre più liberi E questo è stato fatto In questo modo, in quanto riguarda tutto il mondo? I need to call home Yes, completely Completely Go ahead and stop apologizing all the time Okay, sorry Thanks Sorry about that I'm just trying to look at the details How much effort is this game All the bots are in the car Good effort Oh, where is this guy from? Look at the high view dude What is this guy? View from around here, born and bred Born and bred? He asked He told me I moved to Anchorage around your age Delos was mostly Alaskan natives then Clinky and Hyda Haven't been home in 5 years He told me Oh, so you owe your family a visit? I'll say You may not know it yet, but your folks They get old real fast Right He looks so awkward He's talking back Alex Gershwin Huh? To George Gershwin Gershwin the pianist Folks are always asking you for related So I try to head it off Oh What did you say your name was? What did you say your name was? Just call me Tyler All right Good to meet you Tyler Likewise, sir He will be quiet Yes, I also feel like The name is a little bit of detail I want to take it 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 When everything else fails Try doing what the captain suggested I told him Okay, okay I didn't know what he did from the Vigil Isn't hunting season almost over almost I am cooperating He is going to act If he hits it You are not one of those odd sixes Old and boring folks ok non è vero il mio lavoro questo è il mio padre ma non è vero il mio padre sei che il mio padre il tuo lavoro il mio ok, è un'advice per le loro rivenite Noi, noi stiamo dovessi andare a svimmi E' vero, è vero, è vero C'è un'esplice, non è un'esplice E' un'esplice, non è un'esplice E' un'esplice E' un'esplice E' un'esplice E' un'esplice E' un'esplice È un'esplice E' un'esplice Adesso si che ora è. Non è venuto Ancora l'esplice Non ho invito a un'esplice O che si la città Ora noi stiamo vedendo Che ecco Non andiamo Conchè Adesso si deve andare solo oltre anche ok, abbiamo visto un po' di più non ci sono un po' di più non ciò che non ciò che non ciò che stai a parlare stai a parlare di prima ma bella è così velo ok, parliamo di te quindi non ho fatto qualcosa non c'è ancora un lavoro oh graffics must si è ancora inizia per quanto riguarda i due due games non ho aspettato molto ma è molto buono per una storia tipo di game non è più realistic non è più cartoneista Non c'è nessuno, non c'è un perfetto spot Non c'è nulla di fare, non c'è nulla di fare I'll have to wait till we're dock C'è quella che è in front of me Non c'è di parlare con Alisson Guarda la posizione C'è quello che è guardato? C'è quello che è guardato? Qu'è possibile? C'è quella che è guardato? Non c'è quella che è guardato? L'opportunità di andare a farlo Non c'è altro C'è quello che è? A questo per andare a farlo Let's go. I'm just saying i'm just saying i'm just playing GTA. I've just played one and two. I've just wanted to play one. I might play later. Ma'ai'e been a bit short and sweet. I thought i'd play one before. Ok. Finally we're going to do the dog. Where are we going? As far as I know, we're probably going to do the entire area. Originally Tyler's mom murdered. Si è venuto da l'arrazione. Ma vediamo. qui? qui? qui qui? Ha fatto che ha cambiato la shape-shifte? Mi sembrava un po' un po' un po' un po' E' un po' che ho messo anche il footnite, non, oggi è un po' di giocare di giocare Il footnite è stato un po' di più C'è 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 un po' di più Oh, mi sembrava che ho spostato, come si è iniziata a un'expanterà. Come si, come si è in questo caso, come si è in questo caso. Mi ha fatto anche in questo caso, come si è in questo caso, come si è in questo caso. Come si è in questo caso. No c'è un'implice. Non c'è un'implice, non c'è un'implice. Wow. They can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? What do you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. I just see her. Allison, we could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. Look at this. Hi bro, watching your stream after so long. You deserve 2 million. Sir, that's enough. 10 million is made. Let's see a little bit of environment. There is not so much detail but there is no difference from it. Ambient music is good. Okay. Do you not forget the ladies first? Let's see. What are they saying? What do you mean? 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 I don't know. I don't know. You'll keep growing, just keep streaming. Yes sir. If you have two times streaming, it's consistent. So, we will grow. Locked. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. Hmm. They used to buy the house keys from the start. You sure that's the right key? Yes. But definitely. Yeah. What is the lock changing? What is the lock changing? Who would change the lock on us? I don't know. We are screwed. You got a plan B? Yeah. We find another way in. The first thing I was shooting at the start. Yeah. We had a million ways in and out of this old house. At least one of them has got to work. Good idea. I wasn't going from the start. But. They weren't going from the start. They were the crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say? Us. We almost spent more time as goblins than we did as kids. Oh. Do you remember all the other characters? The moon hag. The ice king. The old bear. Most of them. I think. But the details are fuzzy. Hey. Do you know what happened to the book with all the stories? No. No idea. But I'm sure it'll turn up when we clean this place out. Okay. The old boy have been built in this place. Maybe they're like all the room zones. Maybe. Yes. That's. That's a point. Yes. 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 I remember she made it a game at least That's right. We made tunnels to escape the ice troll gotta hand it to her She can make us do anything if she turned it into a goblin tale So they love goblins, ok I can't say a open window in the other side I can't say a firebird Where she is living Where she is living I can't say a firebird is living Let's talk about this Here Okay, this is a friendly house What did you find? Our hidden treasure Seriously? How do we think to stash it there? Goblin's secrets are always well kept Wow, this is hidden This is so big and it is showing all the hidden treasure Hidden treasure Wow I can't see anything here You need a hand with that? No, it should be fine Okay If we just get this board out of the way I can probably squeeze through So we need something to pry it off You don't have to You don't have to You don't have to You don't have to We need a screwdriver We need a screwdriver We need a screwdriver Okay I mean These people have told us We are crazy We are With a screwdriver Why would someone put a screwdriver on the other side Why would someone put a screwdriver on the other side? They would not kill the nail What is the shovel? He was there Yes, but with a shovel He said he needs a screwdriver I'm looking for something else I'm looking for something else I thought he was going down He got to step back Not that Screwdriver The flyer is going to kill He is not nailed and he is going to be flat and he is going to be nailed why is he who is asking? And they will get something in the shed . There is also one point ive a scatrice scatrice i schatrice scatrice se non è open come si è slidata non è riuscita in questo game i schatrice in questo momento i schatrice Yeah no no he scrooge No 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 Mi la controlla vibrate? Roed boss is very OP I'm back to you, do you want to die? I'm going to miss more and more. Sì, per farlo! Goblins sono dovuto aiutare la princesa Non giocare di tricci Non giocare di tanti Non provo a non farlo Non provo a farlo Didi che succedere? Non so, ma io anche lo vedo Si è stato come quando si tratta di usare le pensi Con la nostra voce Si è stato Ma è una memoria di noi 10 anni fa Vagamente ricordi che è stato E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Sì, non è vero? Sì, non è vero? Sì, non è vero? Non è vero? Do you guys see how the young tyler looks like your brother? Where is he? Penso che non vuoi vedere quello che ho messo in l'arrivo, allora. Cosa? Non, voglio vedere. Penso che sappiamo dove andare a cercare ora. Dobbiamo ricordare quale è il Silent Frog. Quindi, quale di voi è scendendo il clave? Cosa, dove è il clave? Sì? Cosa? 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 Ok ok. Sorry. Gandhi si che c'è il canale il città. Sì, è stato un lavoro. Ok, c'è stato anche l'ho aperto. Ma non ho capito ancora. Ma non ho capito. non è arrivato che cosa è? Oh no C'è il mio un bel balsh tag E' lo che ha fatto C'è il mio un problema di box C'è un problema di ieri e ha detto che ci sono un po' di nuovo e parlato di Gusta ok, si chiudete prima di cercare di entrerci dentro 10 anni fa è andata Gusta si è diventato che si è diventato da qualcosa, chi è diventato da qui? che si è diventato da le nai, che si è diventato da qui? ..d'acquesta non è stata una cosa che non è stata fatta e non è stata fatta un po' di più anche un po' di più si era un po' di più All right I'm going in for real this time. Okay. See you at the front door in a few minutes I mean, we're going to go in a different way Good, good, where are you? I'm going to search for you I'm going to put it in my head I'm outside I'm outside I'm outside I'm outside I can hear you in my head I can hear you in my head Our voice It's back Holy shit That's a jadu I don't suppose you remember how to get to the hatch I think so We'll figure it out together Oh my god What's happening all the jadu Full jadu You were right Nothing here Of course I was What's happening here? What's written here? Delos crossing olympic event Or rocks It's unlocked Okay I'll see I think What do you need to put the door in such a house? People can go down Okay These goblins I thought they are mini yoda Baby yoda Baby yoda What is that? What aoff Do What is the name of the job? But �� Lips What's the name of the Dieu Man It's genius Good Using Ma che cosa ha fatto? Ma che cosa ha fatto? Ma che cosa ha fatto? Quai che cosa ha fatto? 10 anni fa! Super rich people Then comes red liner Yes red liner Ma che cosa ha fatto? Ma che cosa stai? What am I looking for? What am I looking for? There is nothing here. What else you can fight? About the hatch. There is a map in the house. The main objective is that. But we didn't get a hatch yet. And I didn't care about the hatch. Let's see. Let's see. What is the main? What is the main objective? What is the main objective? Enter the hatch. The hatch. Like a telepathian. Oho! He got it. How am I supposed to go? No. I don't see. What do you need in the house? I don't have to go to the house. People will go up from the bottom. Easy. Look at that. You used it. It was so quiet. You just have to go down if you were to the hatch. One time. We have to go down from the mountain. è stato un po' sotto C'è un po' di farlo È un po' di farlo Particles Mi sono partiti Ma piccola si si ho già parlato di Alison ho già parlato di cheاسola sono sei come 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 I ammorti, i ammorti I ammorti all the time, i ammorti I ammorti, i ammorti, i ammorti Non mi sembrava così, non mi sembrava così Cioè, non mi sembrava di tutti, non mi sembrava di farlo Questa è la mia memoria non sembra real si è fuori guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda ora gli obiettivi camera guarda, guarda non c'è la pausa in questo caso non c'è la ultima veloci questo è un tipo di tipo americano come un po' come un po' è venuto vai dentro Now what do you think is that? Now what do you think is that? In questo caso è un problema You don't get to make many friends I said come who will make friends from here? I don't want to stay in your life I like Alison She is also Some of our old toys give me the creeps Is this a toy? Is this a toy? No, no We'll be scared and run away from this toy It's a toy, it's a toy It's a toy It's a toy It's a toy Yeah, with the way Maryann was I tried extra hard to keep it a secret Maryann I can understand your feelings No, you cannot, bro I'm not getting it, bro Oh, the diary The diary is remembering Where did he keep it? Mom, where is it? What did you do with it? Mom, where is it? What did you do with it? I can't find my diary I know you stole it Give it back Sweetie Whatever I do It's just for your benefit Tyler was looking at her You had no right to do that I have the right to do whatever I need To protect my little girl I'm not your girl I'm not your girl I'm not your girl You will always be my little girl And no matter how hard you fight me I'll fight twice as hard to keep you safe One second, something's wrong over here Why did she Call him a girl? Wait Does that mean he's Not a male? I don't know how I never saw it coming She told me right to my face She was willing to hurt me To keep me from transitioning Okay, so he was not born a male Tyler There is no way you could have known she'd go that far I want my diary back Her room was the only place I didn't look Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison Writing down my thoughts helped me realize who I am No, he mentioned something about You think her room is still locked? You think her room is still locked? Going to a... Transgender community or something? I know But he didn't say why he's transgender Or he, like, changed his gender or something He didn't say anything He didn't say anything I was looking at you Chard His furious voice could be heard throughout the forest For your wickedness, you'll be eternally bound to the lake What? No way Quiet, let me finish You will no longer be allowed to leave Not even under a full moon The moon hag was imprisoned in the lake And she never again tried to escape Hmm And then the title And then the title What do you think? Not bad, right? I guess that's okay But I would have changed the end What? No way I totally forgot about him I totally forgot about him I can see both of these memories Because it was dangerous to mention his name He was too powerful Hey, what was the timing of this? Geez, are we going to die? Are we going to die? Where are we going to die? Where are we going to die? Where are we going to die? What a body block A full body block This is his mom's bedroom Hold up What? Remember this? Unfortunately You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum Nothing a good hard shell won't take care of I mean, yes, we could brute force it But it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun Okay, well, if we break it, we're just going to have to fix it for the sale So let's at least try not to You have the book of goblins? Yep Yeah, I had a presence opening Yeah, 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 yeah What are you looking for? The image on the door It's making me think of a story from the book One that Marianne wrote You have a way better memory than me Well, the book of goblins was my creation And you'll never let anyone forget it Here it is The one about the princess's party Give it a read I think the symbols may represent something in the story First ghost memories Now storybook puzzles What a weird day What a weird childhood What a weird childhood Touché Let's do it Let's see Let's see The book of goblins opened And Moon is here Moon is here Yes, two of them Two of them Now you have to study Moon is here Who is Moon? Who is Ice King? Who is this? Okay Let's see Okay Okay Let's see Let's see What is this? What is this? What is this? Don't forget to read the whole thing Don't forget to read the whole thing You're giving me You're giving me I guess This one That 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 one ok questa è la più che ho fatto il mio caso non può essere uscita ora questo è una parte 1 per oggi grafics e storie line mi sembra molto bene hoppolissimo hoppolissimo noi 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 next time let's try to solve that puzzle and if possible I might stream some Valorant too look, I didn't know that I was coming early but Valorant was not the best to stream I'm going to kill now now what do I have to play now, I'm going to end stream I'm going to play off stream Valorant and rank up and then I'm going to leave it for 6 hours for Tanish, I'm not going to make a long stream for today see, next time let's do something let's edit part 1, we'll see you next time thank you guys, Tanish, Redliner and whoever you are watching on the stream I hope you guys join in next time too, okay? let's go listen let's go let's go let's get started oh let's do Grazie a tutti